Come mettere il doppio colore o come realizzare stampe a due colori? Ho visto poche stampe fatte a due colori per il motivo che è ancora un po' più difficile del realizzare stampe a un colore. Come facciamo? Una volta definiti i nostri parametri di stampa andiamo sulla sezione plugin. Utilizzo versione 15.04.5 perché non ha bug ed è molto più veloce di quello nuovo. Come fare a impostare il livello in cui si stopperà? Adesso ve lo spiego subito. Dovete prima di tutto per comodità unificare il livello iniziale con cui stampate e renderlo uguale al livello con cui stampate di media, ovvero se noi stampiamo a 0.1, qua lavoriamo a 0.1. Se dovessimo lavorare a 0.2 dovremmo mettere anche di là 0.2. Questo perché non è fondamentale ma è utile per azzeccare il livello giusto per cambiare il colore. come fare quindi? Dobbiamo entrare in visualizzazione layer e vedere come è fatto il nostro oggetto. Come è fatto il nostro oggetto partiamo dal livello 0, in questo caso parte con una cornicetta, non è il massimo ma non mi interessa molto. Saliamo, saliamo, saliamo e andiamo a beccare il livello in cui comincia l'incisione, 27. Vedete? Dal numero 27 in poi la stampante comincia a fare l'incisione. Come fermarla lì? Pausa a che altezza? Mi chiede in millimetri, i livelli sono 27, quindi se stiamo lavorando a 0.1 mettiamo 2.7. 2.7 millimetri corrisponderà al livello numero 27. Ci dice dove vuoi che vada la macchina quando entra in pausa? Io gli ho dato 190, 190 e in altezza 0. Vuol dire che quando entra in pausa si sposta 190, 190 e 0 di altezza. Adesso la prova del 9 la facciamo quando? Quando la visualizzazione layer si carica tutta, cosa che è successa adesso. Nel livello 27 andiamo a verificare che la stampante faccia, vedete, questo percorso qua. La stampante al livello 27 prima di cominciarlo va a 19, 19, spurgo, rischiaccio una volta e la stampante riprende a stampare da dove stava stampando, con la differenza che ho cambiato il filo. Alla prossima!